scusa che sei niente? non li chiedo due volte no sei stato ripreso eh di che? mentre facevi un fai ammigli di cose dovevo mettere un boccetto perchè li apre lasciate Grazie a tutti che con chi è stato grosso continuo a seguire no ha le posizioni da me eccolo ben a sola perchè quelle volte che non sono buono è la è la è il regalo è il regalo è il regalo grazie vai 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 bravo Marco e vai avanti lo vedi bravo questo continuo bravo non ti fermare Marco dai 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 vai vai quello che sto sento io che ne viene la gamba alla parte dai 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 mi avete la mano giro al collo Marco dai 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 no sei buttare la lontano vai avanti vai avanti vai avanti vai avanti Non lo fa uscire da tanto. Continua. Ma qui se butta sempre con destra la mano. Vado a prenderlo. Continua da basso. Non so dare piedi. Via, niente a tutti. Niente. Dai, bravo. Alla frente, va. Dai, dai. No, bravo, dai, 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 dai. Stop! 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 Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Oh, dino a prendere. Fa tira. E fa tira che mi piace! Uno, due, tira. Dai. Allora, andiamo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.